Grazie. 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 La comunità conciliare, limitavo il 17. Passiamo al primo confronto del giorno. Comunicazioni del sindaco. 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 L'attivo fisso è un utente da un elemento per i mezzi prodotti, per cui lui è ricorso l'individamento dei vestiti di abilità dei nomi. Le bastiglie ragazzolidate rappresentano una vacca marginale della funghi e sono interamente coerenti a livello di banca tutta l'uno, volute le date di scottibilità liquide. La situazione finanziaria qui sfrutta positiva, gli indici finanziari maggiormente significativi sono collocati su valori superiori a cui riguarda la situazione di eccellente equilibrio finanziario di tutti, anche nel breve periodo, durante il quale aveva un'ottima velocità a fronteggiare le possibilità corrette con le relative attività non li ha assicurato al circolato il plus necessario per lo svolgimento delle attività. Per quanto lo svolgimento del voto economico, nell'attività del registro del 2021, il fidancio consolidato subisce dal lato il proezza positiva degli impianti conseguito dalla diversificità consulata. Nello specifico Zappa, nell'unità 21, ha conseguito un utile varie a 1.730.305, ma è un'ottima velocità semplice. La città, nel corso dell'anno 2022, ha avuto un'ottima ordinata pari all'euro 40.260.769. E complessivamente, pertanto, l'aperto del bilancio consolidato, quest'anno l'apporto del 37.961.251, questa semplicemente somma c'è tra la perdita e l'unità, ed è stata sostanzialmente influenzata dalla cartonale della Fondizzi per 39.767.770 per le persone legate alla vicenda Zappa, che credo conosciamo un po' tutti. Inutile dire che, su questo minaccio consolidato, da ripetere la legge dell'inizio è positivo. Quindi, quello che chiedo al Consiglio, che vi approvava oggi a me, quando c'è questa necessità, prega discussioni politiche e da ripetere la minaccia consolidata, che portiamo adesso alla vostra attenzione. Grazie. 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 me stesso che la valutazione su questo modo di portare avanti un minaccio consolidato non appartiene alla mia amministrazione del mondo, non appartiene affatto, non appartiene a, perché il segretario generale oggi perché la sua identità di segretario generale, mi schiaccia, segretario vinto, ma qualsiasi altra circolare che lei farà e inviterà le commissioni consigliari a fare filtro prima di arrivare a un argomento importantissimo in campo di responsabilità, circolare che è arrivata a me, è arrivata a tutti voi, non è stata fatta una sola commissione, consigliare per poi arrivare in consigliere e contestare in modo diretto prima la forma con cui si viene in consiglio di responsabilità a parlare di di un argomento solidato, perché il argomento solidato non è esattamente quello che dice lei, perché l'utile di Satana, l'utile di Armena non significa stato di salute di Armena, non significa stato di salute di Satana, perché Satana, Armena, ma soprattutto Satana ha un problema di gestione, abbiamo i debiti che la regione Campania con la città metropolitana che sono potenziali e che sono potenziali per il bilancio consolidato di città metropolitana, quindi l'approccio è completamente sbagliato, affrontare un bilancio consolidato e consolidare in un periodo, facendo un'atteristica efficiente, che soprattutto nell'aspetto politico si viene, il consiglio dell'arte, che non si accorde il problema politico rispetto a delle partecipate, che hanno occupato con grandi interessi di questo consiglio. di questo consiglio è inaccettabile. Un'inaccettabile è il capo vicisintro che ho delegato dei parenti nel quale praticamente fa cinque volte la conta chiamando partecipare il telefono e consigliere per la città metropolitana. Un'inaccettabile, un'inaccettabile che mi ha guardato, molti consigli di proprietà ne escono e quindi credo che è arrivato il momento, un anno e mezzo, di fare tutti con il vero problema che c'è. Questo consiglio di proprietà è rapace di dare gli indizi agli uffici a coloro che praticamente lavorano burocraticamente, che occupano questi documenti in consiglio di proprietà. Io credo di no, io credo di no, io credo che se pure la legge della città metropolitana ha dato le elezioni in diretta e non dà il potere a consigliere legato di dare indivizio, noi abbiamo il potere, noi come amministratore, ma soprattutto in ricorda agli ottimi sindaci che sono sicuri nei banchi del Consiglio di proprietà, di portare la loro esperienza e di lasciare il Consiglio di proprietà con chi verrà che sarà l'assessore che sarà detto al popolo, un'attività fatta bene e non un'attività di una nave che oramai è sui sogni dal punto di vista di preparazione, soprattutto degli atti che arrivano il Consiglio di proprietà. Questa è la mia vista politica che non viene dalla violenza, ma viene da un fatto oggettivo di fatti. Per quanto riguarda il piaccio del medico, prima di arrivare al piaccio consolidato, leggiamo il perimetro delle società participate e metà la relazione di delle società. Io non so indicare la faccia, ma credo che ci sia una rettifica immediata da fare, perché nella determina si risegue il vicisintroco. Quando si fa il perimetro, siccome è un po' più in comoda, perché non c'è nemmeno la possibilità di mettere le carte, di dire, di commissione, perché poi tra l'altro viene fatta la conferenza di Capitupo e viene convocato il Consiglio di Capitupo da 5 giorni a 6 giorni di distanza dalla conferenza di Capitupo, quindi giustifico anche le mancate comunicazioni e le mancate convocazioni del Consiglio di Cisera e proprio dopo un'accesa discussione all'interno della conferenza di Capitupo. Ebbene, nel definire perimetro si dice valutato che sulla base dei prospetti sovrapportati, non solo da fuori, che si è venuto con le amministrazioni pubbliche, ma da città, ma da in quanto presentano a un nemicito previsto da decreto, che si parla di fondazione, 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 abitato proprio al nostro canale, GESAC, TESS, agenzia locale di sviluppo e comunità non è così, perché devono essere in azione, questa è un po' più in comoda di delle relazioni precedenti, che adesso ha sul consolidato di due caratteristiche di un edificio. L'ho preso, proprio in po'. Ma c'è qualcuno che si scarica le mail, c'è qualcuno che si installa queste le mail, e questo sono io. E quindi lei mi deve discutere, non per i magazzini di visibili, mi deve discutere perché il capo che giustamente hanno fatto i bisogni e il ringrazio, con cui mi sono comportato vicini prima di arrivare al Consiglio di l'età, io mi sono comportato, allora che non devo essere scusa, per essere scusa il capo, ma non perché non pesenta i bisibili, un capo molto semplice. Come tutte? Si fa il riferimento a, sempre per l'escursione dal perimetro, si fa il riferimento al bilancio 2021, si deve fare il riferimento al bilancio 2022, e quindi se questa è la relazione arrivata, va corretta. Perché non è corretto quello che sta scritto qua sotto, non è corretto. non è corretto. Quindi, probabilmente il mio avviso, la città non ha dovuto essere smessa, il testo deve essere smessa, quindi praticamente rispondiamo a rispondire il simbolo. Quindi noi ci sono degli altri, pubblici, nelle termine fatte dove devono essere considerati e devono andare a rispondare i bianci di queste società partecipate. Ripeto, le partecipazioni non solo se parli dentro quel controllo del centro del centro. Lei, il suo comune, anche fa il suo lavoro, e il suo bravo ragioniere, va a possibilitare anche quelle indirette. Qua invece, mettiamo a vedere le cose del centro del centro, torniamo nella disciplina. Poi, perché sapete, è arrivato il momento di fare una nozione tutti insieme per capire, per capire e per constatare che saprata forse, come si sta momento, con le modifiche della legge regionale, avrà un amministratore per altri 5 anni e l'officienza metropolitana per altri 5 anni, deve praticamente, se pure interro la legge, controllarsi con 5 integrati e definiti di implicati, è arrivato a tornare a questo momento. Ma, scusa, il sicuro, il sicuro, ma questi argomenti, io non so come, in che facciate, voglio vedere, il vicisinto, perché è proprio collegiale, anche se sono una persona, però proprio collegiale che presenta l'aggiunta, poi c'è il sicuro. Ma quanti confronti vanno su questi argomenti? Quante milioni, magari, vanno a fare in regione e a un po' di armi che ci dobbiamo ritrovare, dalla parte dei cancelli, va bene, quelle contestazioni di cui non ne serve a conoscenza, ma sono cronere di contestazioni annunciate. Quando? Quando questa maggioranza c'è la maggioranza, insieme alla maggioranza, prende atto che c'è, praticamente sono passati quasi due anni, di attività politica, di città metropolitana, che ci sono i paghi, vuoti, vuoti e i burocrati, va bene, poi parliamo dopo del gruppo, parliamo dopo delle generazioni del minaccio, gli stessi uffici non hanno l'attimo indirizzo. Quindi, tornando al discorso che faceva il sindaco De Pere, che comunque l'indirazio deve essersi tra virgolette, tra virgolette delle generazioni del minaccio, ma credo che lei non potrà lavorare con il sindaco De Pere, non potrà, non ha anche un residuo della consiglia, un'ottimo sindaco, un'ottimo consigliere, ma lei ha un istante elettore della situazione che non può, non può dividere e questo membro di lavoro rispetta delle relazioni, rispetta delle questioni che domani posso investire in questo gruppo, direttamente, deve essere fortale, quindi sono non deluso, ma sono angosciato, è la parola giusta, di poter dire il Consiglio delle comunità e fare proforma una soluzione, questa è solo la votazione proforma, e il secretario generale che scrive il cittolario dice, fate le commissioni per portare poi e filtrare gli argomenti del Consiglio in questa qualità io non vorrò mai più trovare in una condizione di far ridere perché è così maldestro, così brutto, di cui anche la mia mia posizione di violenza me ne riscarce. grazie 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 delle società, delle società che hanno requisiti per essere assolutamente proprietari, viene fatto sul bilancio, è stato fatto sul bilancio nell'anno da tutti i lavori. Ora, il GAP, se avesse fornito una parca di ragazzioni, cosa che non ha vinta, sarebbe stato oggetto di metà, di aggraviamenti, ma perché nel gruppo di stazione proprietari non è entrato un nuovo progetto, ma è uscito un progetto che sta aiutato a proclare il confinamento. In un atto, lo è stato fatto sul bilancio nell'anno 25 del lavoro in ufficio, non solo di dare il processo di bilancio, sui progetti di bilancio o sui dati di consumo struttivo, così come la legge per il livello. Allora, solo per una grazia per questo consiglio di Cilino, per quanto riguarda io, un atto, il GAP dice che io ho preso 30 anni, io sui dottoressa da due parti, ma è un atto, la dottoressa Non ha capito quello che io tento. Perché io sento che i perni ma su sul campo e le vacanze non ci si giudici, è stata nella relazione della decisione. Io credo che la mancanza delle requisite giudici non va esclusa dalla Capa, ma va escluso che che praticamente non entra nei requisiti nel mercato quello che si fa. Lei ha scritto nella reazione che probabilmente queste società non le considerate, sono pure dalla Capa uscite però che lei ha fatto delle affimazioni? Prego. Ha fatto delle affimazioni? Ha fatto delle affimazioni. Lei mi chiede il saluto al nostro. Va bene così? Va bene così? Va bene così? Va bene? La Fonsignor Geno, mi perdoni, ha avuto l'assise. Ha avuto delle aspettazioni. La parte tecnica ha riferito che non corrispondono. Tutto quello che abbiamo detto sta per fare l'assise da parte integrale da lì e qui. Passiamo all'interno della fase di modulazione. Ok, quindi mettiamo lì la relazione del punto numero due, la relazione si chiama il bilancio consolidato. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si assiene? Allora, sono contrari. Cos'è il Mocerino? La taglia? E qualsiasi? Resta scuola. Dobbiamo buttare anche questo. Potiamo anche, chiedo scusa, potiamo anche? Non ci vuole. Ok, quindi passiamo al terzo punto, che è la fisica della variazione del minaccio di direzione numero 23, 25, risultato di 153, in via d'urgenza, oggetto l'applicazione dell'avanzo dell'administrazione 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 Sprezzato. Io sono ingenuità per il buzz consumo dell'administrazione 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 Per il lavoro, 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 per il lavoro. Il Consiglio di Dior è una comunità, permesso che io non ho fatto risultare, non ho fatto risultare. Mi ha detto, scusa, hai parlato, hai fatto una affermazione perché ci sono i comprensori che sia benedepto per me e per te e per il personale. Il Consiglio di Dior è un'autoria, anche quando c'è la discussione, è un'autoria di questo, non stai in parte di discursione. Qui si è da l'inizio di domenica, da tracciare potremmo, passiamo dopo la domenica di domenica. La domenica di domenica. La domenica di domenica di domenica. Ok. Scusi. 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 nella nome es unter sin Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 e degli argomenti non sono assolutamente di piccola importanza, stiamo facendo un Consiglio di un grande conforma perché come dice il governatore di Luca che io condivido in vino c'è una parte della politica della sinistra che pina lo stipendio e che non lavora e che la responsabilità amministrativa dei fatti, esattamente quello che dice il governatore di Luca io appartengo a quella categoria di persone che si leggerà alle posizie e fa tutto quello che può fare, poi ci sono due tanti che si spede una mattina e arriva il politico per una nomina, perché deve stare da, perché deve portare le impasciate, perché deve portare questa e perché deve stare da, questo non è il Consiglio elettropolitano e se va avanti così potrà essere ricordato come un Consiglio elettropolitano che ha fatto il nostro, dove stiamo preparando, ci stiamo preparando da una nuova legge, ci stiamo preparando e questo è unico a tutti i funzionali, a tutti i dipendenti, tra poco si poterà una nuova volta con i cittadini e sapere appunto, noi dobbiamo essere onesti da capire che in questo Consiglio dobbiamo essere capace di rispondere all'ufficio che dice, mi servono 640.520, non di rispondere non di rispondere, ma devi portare l'attività dentro, e devi dire, tornavi il minaccio dell'inizio, tornavi sotto e a disposizione, che stai facendo? E' bene, fammi il malato, che seppur in modo semplice, in modo praticamente anche un po', consentimi il termine, simple, ok? ok? Simplemente, ok? Ma le dice le cose, io ne devi venire così, cento volte mi morai, cento volte mi morai. grazie fine. за trattato, grazie. Professore. Grazie. Grazie mille, Consiglio. è la direzione dell'etica scuola 2, ma non è la direzione, perché la direzione dell'etica 1 si occupa delle scuole pubblicate all'interno della città di Napoli, le scuole su tutti, e la 2 invece, quelle della provincia di Napoli. La domanda che mi dico è come mai diamo soltanto il 10% alle scuole dell'altra provincia di Napoli che rappresentano i due terzi anche dei nostri istituti, oltre che i due terzi degli abitanti, e la città di Napoli che rappresentano il contesto, come i sedi scolastici, come i nomi degli abitanti, hanno molti rispolti, tanto questo è quello che ho detto, perché anche i secondi sono un po' molto, ma questa discrezione, questa differenza, conoscendo tutti i vicini che ne abbiamo, in tutta Napoli e provincia, è qualcosa che veramente non si è visto, cioè mi sembra la stessa cosa in giro d'Italia, dove le hanno i cittadini che attraversano la comunità, è un piccolo dietro alla fisica. Qua sta venendo la stessa cosa, se questa è la produzione, che la provincia che era per esempio il 10% e il 10% e il 1% di Napoli e il 10% 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 di Napoli. Cioè, questo è il motivo per il quale si sta deciferando il Parlamento, questo è il motivo per il quale la Voltea Costituzionale ha detto che il sindaco della città di Napoli e non può essere il sindaco della città di Napoli. Perché ovviamente pensa agli interessi soltanto della città di Napoli e non della provincia, perché la presenza è di più adesso e gli altri dati. E invece sono molto consigliere che sono della provincia, ma anche consigliere di Napoli non pensa da sotto i brani che non si scrive, non si dice podi che si tratta di più. Questa è una riflessione che va fatta, ma va fatta seriamente per tutto il consiglio. Perché altrimenti non ha proprio senso. Questo è il mondo superabile di questo, perché il risoluzio è completamente scaduto. Grazie. 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 La stessa cosa dei fondi su Giro d'Italia, e poi se il sindaco di Comperi o il sindaco di NET ha preso questi fondi, visto che è un impegno ufficiale di questo Consiglio che non abbia toccato nel primo euro, non vedo il sindaco di Comperi da un bel contempo, quindi non domanderà anche personalmente che in maniera trasta su questo nonno. Voglio dire questo, secondo me siamo a parte di questa conferenza, di questo Consiglio Stuttura, non è di scaccia che la maggior parte delle varie, delle varie, delle varie, diciamo, delle che non hanno avuto, non mi dicono niente la struttura che magari è un mandato dal Consigliato o un domani indirizzato, è un ragazzo certo. Qua le regole non devono rispettare, il Consiglio Stuttura non viene rispettato. E' un modo di amministrare, che non possono dividere assolutamente, che non possono dividere, città che non voglio parlare. Abbiamo tanti impegni, tante cose da fare, ci vediamo un po', ci vediamo un grande, e da iniziare, ci stiamo qua, assolutamente, sempre, per le tette di approcci, l'accordo di Pezzi che ha avuto. Grazie. Grazie. Non ci sono interventi per te che arrivare così da tagliare. Io volevo trasformare la metodichusura. Ovviamente il primo dei 600 mila euro ci ricordi che non è sulla provincia, diciamo, ma non è la scuola, 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 la scuola. Nel dettaglio, è dettagliabile che il primo si è che stava nella frisco. Per stare presente, il 100 mila euro, le gran primarie di specializzazione di syscolastici. In questa fase, per l'invento, ci sarà studiato, sicuramente, in maniera culturale, quali sono le nostre esigenze, sicuramente che erano le nazionali e le funzionali perché non si decide in maniera culturale qual si vuole la scuola di scuola di scuola di scuola di scuola. Per quanto riguarda la fede di Brasso, che erano cissimi dallo strumento, che sarà già motivato in maniera culturale, ci siamo già studiati dall'estero, che è molto moda di no, che è fuori l'invento della visita. Passiamo alla relazione. Grazie. 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 Grazie a tutti. poter sapere tutto quello che succede nella scuola. Tutta la data, non ci vuole tutto. Lei fa una semplice comunicazione, non è difficile, ma lo stesso tempo la prima relazionerà su tutto quello che è l'attività è necessario e che, in effetti, tutti i soldi che vengono spesi quali sono i migliori a perderà. Ma non è possibile che trovare un'attività, o chiunque potrebbe essere, sai come l'utubrio della lista di Chantui, possa perdere la sua affermazione di rispetto di comportamenti, ma questa concentrazione, da tecnici, è sempre quanto riguardo. Quindi, il mio rispetto è quello che non tutelare la destra, non tutelare la tutelare uguale a quello che facciamo di mare, e non ci vuole andare. Ma in un'altra cosa è di questo, perché non è che possiamo dare una certificazione di questa partita di quella che diceva, è la parte delle definizioni, ma di quelle determizioni. La risposta è questa quale è un'attività rispetto a quella che diceva, il punto di vista è rimasto, non è la discussione, è la ratifica. Occhio, il nostro compagno è la ratifica della tribuna di giunta, dove tutti quanti sono indipendenti per le conferenze e per quanto riguarda di quello che riguarda. La parola consiglia è di prima. Grazie. Grazie, Sindaco. Vi chiedo di confermare o di dire il contrario. Se il Comune di Milano e la persona del Sindaco, che ci ha detto, abbia fatto richiesta per chiedere un euro per quanto ci sono stati finanziati le strade che corregono per mettere la posta del sindaco. No, si è venuto confermare, ma non ci sono stati finanziati. Oltre alle azioni pubbliche. Vi chiediamo. 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 Sì, sì, sì. Lei, io ho detto che conferrei, voglio iniziare con un libro rispetto a quello che ha, me lo ho detto, quindi chiederei scusa se entrambi non si fossero comportati, invece non è come sono comportati, ma siccome si è verificato che alla parola non si è con i fatti, che non si è verificato che alla parola non si è con i fatti, in questa ora abbiamo la parola che si è con i fatti, ma se non si è verificato con me, non ha più la sua grazie. Grazie. Io scusa, perché cerchiamo la vita da trafissi, cerchiamo l'identificazione dei spettatori del gioco. Per lei che non si è malattia. Io stavo con lei a parlare, io non ho seguito la parola. Per lei che ci ha dato un po' la parola che non si è verificato. un po' la parola che si sta facendo un piacere, diciamo, che fa un'orazione sulle strutture. Io ho fatto una domanda a noi. il consigliere Cioffi a quanto pare vede l'adulto il 24 febbraio e la salita è il consigliere del proprio i bambini 25-5 2020. Materia alle scuole. Materia alle scuole. Come va? Ma oggi ancora non è stata data, invece, questa è la prima domanda, ma faccio a sapato, perché non allargiamo un po' troppo, visto che il consiglio di questa volta non credo che vogliamo fare anche un po' di politica. Ora, secondo la politica, se è un terzo e un giro, o volete deniare il discorso, io posso sapere se la delega del Palatà, la governata... Allora, io non parlo più con l'intelligenza del Cioffi. Io ho anche interrelato, ma questo... Ok. Alla fine? Sì, ho finito. Ok. Solo per rispondere alla fine, poi passare la parola con i miei ragazzi. Guardate, il contador del Giorgio è un altro giro. Io lo scuso per così. Ora, quando le terre non sono stati assegnati i consiglieri di una comunità, non è così qui. I consigliali, saluto, mancava il singolo di Manfredo. E sono di sua diretta competenza. Se poi relazioni un consigliere di una comunità il concetto del singolo di Manfredo, non è assolutamente per chi ne è, chi può guardare e chi può guardare. Questo è per quanto riguarda l'intervento, perché lo voglio rispondere giustamente dalla soddisfazione, in maniera come il discorso di come loro potesse. Guardate, quindi... Quindi, spedere la soddisfazione, spedere le due diritti, che sono domani che si possono dire il suo sistema politico, e tutto il sistema di cittadinanza. La parola... Che politica dove si va? La parola... La parola... La parola... La parola... La parola... La parola... Prego, consiglieri. Mi consente, Presidente, di non condividere la sua ottima affermazione, ma la consente, perché... Adesso il consigliere, poi tra i raggi, un problema qui, e se il consiglio di questa proprietà, ancora in... che non è delicata, ha un problema di lavorare in qual è la... La parola... La parola... Il consigliere, a lei, che... All'interno della città, se non riuscite a definire questa retta, è il problema che tocca, che... 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 Il problema è la stanza, ma è l'affirmazione giusta di dire a tutti, e in modo di essere giusto. Consigliere, siamo tutti quanti, siete, siamo tutti maldi, siamo fatati a me, e se ci vedete, l'intervento di questa famadate è che mi piace consolidare la pregenet, e dove è giusto, non è giusto per la politica, non è giusto per la politica, ma non è che io non parlo, ma non funziona così. Perchè lui ci sarebbe fare parlare in tutte le difficoltà, ma certamente non è che non è più in cui lui non si fa la massa di risposta a questo, ma non si fa la massa di risposta a questo, ma non si fa la massa di risposta a questo. E poi, chiaramente, questa c'è una risposta, se lo doverà. Ok, grazie. Grazie a tutti. La voglia di parlare sull'ascolazione che si ritornano all'unità del gioco. Grazie a tutti. 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 da un po' della nostra casa la scuola di sicurezza di sicurezza di sicurezza di sicurezza di sicurezza di sicurezza. La scuola di sicurezza di sicurezza di sicurezza. La scuola di sicurezza. La scuola di sicurezza. La scuola di sicurezza. Allora questa variazione si ricordi da un punto numero 38 del numero di regioni. il bilancio per una causa con uno dei consorsi che ha realizzato la circondazione stessa. In effetti il calcio 1.5 prevede una variazione mediante il finanziamento di queste somme attraverso, diciamo, la punta della mano, sto accadendo la profondità. Noi ogni anno, come accettatura, prepariamo i fondi rischi che viene conto appunto dell'eromissimo giudizio, elevato che economicamente andiamo a indicare la possibile che c'è il quale sottopulenza. Nel caso di specie, il programma del finanziamento è un programmato nel fondo rischio di la possibilità di poterla di vendere il rischio al suo lavoro. Volevo subito, anticipando quello che è il contenuto della sentenza della sera l'unico di Alpezzo, che, diciamo, il valore economico di questo contenzioso credo che è stato tutto ricettato in primo grado, c'era un lungo riconoscimento, un primo grado di Marletissa. La corte di Alpezzo ha ricettato tutti i motivi di Alpezzo del Consorso Civile, e accogliendo ne sono uno. Nel senso che Romani ha tenuto, diciamo tutti, il primo grado, in considerazione, la circostata che nel corso del tempo, diciamo, per una serie di varianti successive, l'importo complessivo della concessione era stato, diciamo, modificato. Per l'effetto, questa voce, che è stata riconosciuta nel primo grado, l'assi in maniera pari, insomma pari a mezzo, rispetto al totale, era stata veramente, diciamo, quantificabile di più grado, in quanto il giudice non era considerato che l'importo era superiore, cioè il posto su cui fa trovare questo attuale. Volevo poi, diciamo, solamente con questo concludo. Questa, diciamo, sentenza, è vero che facciamo un riconoscimento del diritto così in grado, però credo che abbiamo un minimo pagamento al consorzio, in quanto noi avvantiamo nei profumi del stesso consorzio un credito per un arbitrato che ci arriva condannato a pagare 1.750 mila euro di interessi, che noi l'abbiamo compugnato con un arbitrato, perché siccome è una consorzio in maniera, diciamo, da, diciamo, da, diciamo, da, diciamo, da, diciamo, che è considerata una, diciamo, con normativa in maniera del carattere annuale, per le quali con il rego santo del 98 è stata esclusa la possibilità di dare funzioni che abbiamo già avvisato. Quindi noi abbiamo avuto, perché è stato a poterlo abitare il potere, appunto, risultato. Quindi abbiamo un credito che verrà messo in compensazione con le somme che dovevo pagare. Quindi noi abbiamo la necessità, da un lato, di quantificare quanto spetterebbe fatto il risultato. Dall'altro, avevo fatto il risultato che ho risposto meglio alla realità, diciamo, le ricette della realità. Fatto, hanno fatto, diciamo, un anno di accertamento per l'entrata di non che nel momento in cui entrambi sui saranno certi esibili, che potranno essere estremisti di nuovo prezzi. Quindi, diciamo, questo è l'atto, penso, che è venuto da approvare anche l'appunto per l'Italia e la realizzazione di prezzi. Unico l'appunto per l'Italia, proprio come l'aggetto, c'è il nostro massimo, le condizioni, le condizioni, i tassi di, vuol dire, le carichi di valutazione e quindi, diciamo, ciò che è per questo risultato a approvare anche la persona. Discussionato, un'altra cosa. Lei ha detto che, da un'attività precedente, siamo stati condannati, ha detto così, a dare 750.000 euro. Quindi, noi li abbiamo dato così. Sì, perché ora abbiamo subito un successo sentito nelle nuove del processo di appunto di un'attività, grazie alla punte di appello di appunto di questa statuzione del governo. Quindi, quando è arrivata, c'è una sorta di compensazione, chiamiamolo così solo, una sorta di approcciata, hanno incassato. C'è lei dice, ma, se dobbiamo andare a sicuramente, o quindi, ieri dobbiamo andare a evascio di 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000.000. No, è un sacco. Per esempio, sulla parte degli altri, che sono stati effettuati dall'ufficio, l'importo spettabile, per il tempo della sentenza della tutta di appello, post famiglia d'ultima del giorno del riconoscimento del debito di bilancio, e ci condividono le cose. In parte, come la registrazione ha, si è avanti a primo grado una certa quota, già su questa dicembre, quindi, parlando di un'unità, quindi, come referendo a questa differenza, partedrà, quando lo dobbiamo vedere, l'effetto dell'annuvamento di questo organizzante, che sta salvato, dicevo, all'attento, e l'annuvamento è stato preparato anche in azienda di comunicazione. Quindi, perfetto. Quindi, su quesimo commento abbiamo già andato? L'anuvamento è davanti, io, poi abbiamo contato 750.000 euro, e adesso riconosciamo un milione di euro, e poi, dopo, come iniziamo, 750.000 euro. No, nel senso che l'orietto è così semplice. Noi abbiamo tantissime capsule, se il Consorzio ci chiede, io devo comprare anche il Consorzio e il Consorzio. Quindi, sul senso del risultato, noi siamo nei risultati per la determinata voce economica dei nostri 350 euro. Adesso, sulla parte, in questo senso, è un dato di un milione. Quindi, chiaro, che nel momento in cui noi riconosciamo i investiti per un milione ovviamente, aiuto in potenziazione a questo evento del Consorzio di 750 euro. con interessi, da qualun'uo, hanno preso questi soldi, portano il processo, con il suo seguito, metteremo in compensazione 20 euro. Quindi riscariando da un milione che deviare con i 350 euro? No. Non credo, 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 a portare un milione. Un milione? Poi è passato l'incompensazione. Quindi, se noi chiediamo un milione, 350 euro, veniamo scalati da un milione e il segno che è fatto. E' una differenza di qualcuno che sta immaginando in Stassoni, che non sa neanche di cosa stiamo parlando, noi stiamo attenti, seduti, edubati, perché questa è tutta l'educazione quando ci parla di cose importanti, perché la prima cosa dell'educazione, cosa che mi hanno insegnato con i miei cittadini, perché quando ci parla di un milionario, di crezzi che parla di che dobbiamo dare, dobbiamo dare a questo signore, che crede che qualcuno si dà la traccia alla sua madre o si va a prendere, perché questo lo va bene, quindi il mani scopre che siamo in un circo, o in un circo del volontario, mi perdono le belle, quindi azzurra che il milione è il tuo diavolo, poi le belle qualità, il 10.10, che stai andando a più dove lo diavolo, capito bene? Sì, cioè io parlo di un'altra, io parlo di 750, io parlo di un interesse, ho quindi per matta la scelta, ho di cui sanno i miei creditori, l'unico che ci posta di questa sentenza sono creditori di questa differenza da quanto ha carattere il grado e quando ha aggiornato il grado, ho quindi la sentenza, diciamo, l'applicazione qualunque delle risorse che non avete, questa sentenza è solamente, diciamo, delle pubbliche, dove di salvare il primora, e c'è una, e questa summa è il grado di 50.000. non il 18.000 facendo 50.000 euro che quelle mappe facendo, quindi questi due pressi sono le tante, certe, quindi, quindi, per effetto, l'elemento dell'operazione fisica, si annunfano reciprocamente, chi non ha fatto l'attruggimento delle 25.000 euro, porta parte di differenza dovrà essere pagata. Noi vediamo a te che facciamo qualche cosa, no? Noi vediamo a te che facciamo qualche cosa, no? Noi abbiamo già, abbiamo già, abbiamo già, abbiamo già dato due minuti, o comunque le due diretti che abbiamo riconosciuto, prima di questa sessione che abbiamo riconosciuto, per questa sessione che abbiamo riconosciuto. Poi, per oggi, con questa, con questa conoscenza di imparere, riconosciamo un periodo di economia. No. Poi, un capitato di cubi che avevamo soppondenti, che abbiamo dato 750.000 euro, successivamente, se hanno un risultato di ciclo, comunque abbiamo contestato, questa procedura di 750.000 euro risulta, quindi, un credito che noi abbiamo riconosciuto della società. che abbiamo avuto un'altra domanda, che io, la faccio in situazione. Ora, noi dobbiamo dare un'altra domanda che io, la faccio in situazione. Ora, noi dobbiamo dare un'altra domanda di euro, l'automobile, e poi 750.000 euro hanno consigli di compensare un altro tipo di programma, che lei ha fatto varie, che non so se ci sono questi detti che abbiamo. O, gli diamo solo 250.000 euro, perché questo momento io non ho pensato. Lei ha passato a fare un lavoro? E' a che ci vuole? Allora, io, quello che posso dicono, che noi abbiamo anche di Italia, che è una casa, la domanda di una facilità, la facilità tecnologica, dei soldi, di un'altra domanda. Io, la prima, io, la prima, io, la prima, è di una circa un milione, per esempio, la nuova, e la prima, così a me, ma questo, dovevo dire, quindi, da lei, questo è quello che io. Quindi, posso dire, che lei si sfida un po', con 3,4 milioni di euro, questi soldi, noi gli dobbiamo dare, e dice, cosa è? Quasto dire? Ma poi, questo, grazie. ringraziare il consiglio, che vi dice, che vi chiedi dalla parola, il consiglio, che ci dico. Prego. Io ringrazio, ma non ho la scelta, dallo sostituto. Ringrazio, ma ho parlato che praticamente, quando ci sono delle cose pure, quindi, consiglio, che vi da dire, le nostre, è una cosa buona, di riconoscenze del tempo, di cui ci siamo, ci sono tantissimi, ma non ho iniziato una, e giusto, che praticamente, anche chi ti dice, non è una verità mia, ma non credo che sia, una verità del proprio, perché è una verità di piaccio, è una verità di piaccio, è una verità di piaccio, è stata messa al punto di schifo, e quindi, io penso che sia, comunque una verità, perché la sentenza è sentenza, e quindi, non capisco che, chi ti manda un'altra foto, visto che, si va di un accontornamento, a fondo rischi, e poi, sarebbe sicuramente, questo fondo rischi, sta lì, per questa libera, come stiamo facendo, che abbiamo messo 7 giorni, abbiamo messo anche i tuoi, i tuoi, i tuoi, no, non so, guardano le alberga una, guardano le alberga, ci, guardano a parte una, della сюда, non l'album. Allora dicevo, un punto rischi, io ho, ho fatto, il seamless interventi in questo consiglio, ời vado in tutti degli interventi, una kanzi, significa unaondezza di, perché questo riuscita di tempo di finanza, lo devono andare da uno o ne ho tolto. La oggi viene riconosciuta di tempo di finanza. Lei invece ha fatto, prima, un'altra domanda fondosistica, è stata la torna madre questa cosa, fino ad attesa da fondosistico superiori e che viene anche attuale da fondosistico. La dinamica fondosistica, con una relazione di dinamica, quindi si è messo in anticipo di tutto questo. La cosa è che questa procedura, rispetto a una procedura ordinaria, è di testa. Però va bene così, chiaramente questo è il precedente. Quindi, spero, in questo suo modo, mi riferirà all'Aula, che questa sua elegante e precisa, grazie a un forso, accompagna anche altri regoli di fiducia di Ance. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Sono ci sono altri interventi. Passiamo. Parlo dal consigliere che ti dice, la mia voce dell'Evrica. Io ho letto un po' la sentenza, è ovviamente deliberato. vedo che le contestazioni che il Tribunale ci fa, sono queste contestazioni da intervento e da concentrazioni. Insomma, come vi sempre, che parlano addirittura, diciamo, di progetto, è proprio il progettuale, lo chiamerebbe, che un po' se ne intende. Parlo che è partito proprio il progetto in maniera sbagliata, è chiaro che con i sociali sono un altro diverso sull'interessi, altre vicende, come alcune che rientrano nel ragionamento. Il contenuto sia dato, si è mai pensato, chi è la scrittura, di identificare un po' le voce di questa sentenza che, arriva oggi, ma sono stati partiti quando addirittura dove erano vicenni anni, non si parlava ancora di città, non si parlava ancora di città. Io non vorrei fare responsabili, ma non è possibile pagare subito con il sostegno di oltre 20 milioni aere e pagare ben tre, e non è solo questo io, ci siamo un po' tranquilli, e non identificarsi. C'è questo famoso terrore percentuale che potrebbe, magari, rispondere qualche fiduzione, qualche tecnico, che mi dicono, se anzi, un tecnico che ha il tempo per esportare, era tutto in poca. Chiedo quindi, per dire, l'indirizionamento di derivina rispetto a questo danno, che, chiaramente, noi ci vogliamo affrontare, quando ci stavano, magari, non c'è dire, qualcuno ci aveva scaccato, e, certo, nonostante, dice, vabbè, vi è fatto così, per chi non mi ha messo questi ragionamenti, quando vi fate casa, quando avete lavoro in casa, e l'operata, doveva rilavare, un muro, un po', un po', un po' scorto, dice, vabbè, sono del futuro, perché poi, vedete l'interno del futuro, eppure lo sbaglio, e poi viene, è molto bello. Alla fine, chi è arrivato l'ultimo, non è qui, poi, quando viene, dovrebbe dire, avrà, un concetto, questo, questo, a me, è un po' che si usa. grazie. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Passiamo qui, che è l'indicazione di gruppo, ma c'è la votazione. membri dall'acağım per Eurolega. I Hunciini Parola. Alle, speriamo qui. Idete app gegnerare bandi, Group d'Aath楼. I Hunciini Parola. Allora, solo come legislazione questa valutazione si pronuncia che l'operazione di bilancio della successione del 38 è intraposto a conto dei limiti eseguitivi, ottimità e arricchimento perdente. E con il rima anche la protocatrice consigliere di Luccia e tutti gli uffici facessero dei reti fino a finché si è istituito nell'eventuale di struttura da parte di qualcuno e non è che paga tante volte. Quindi dobbiamo lasciare la protocatrice che deve attivare per identificare se ci sono o no. E con i progettuali o altri, quindi ci sono una regolamenta della possibilità di essere i servizi e i servizi per questi toghi. Se abbiamo detto l'intento, lei deve rispettare cosa? C'è un'idea di spiegare che sta... La parola del segretario, perché è stato giudicato il segretario? La parola del segretario è stata giudicata. Come sapete, il Consiglio ha un'attività, quindi il suo Consiglio ha un'attività, non può riconoscere ai sensi dell'articolo tra l'altro lo stesso, non può riconoscere il territorio di bilancio. Poiché, a due due giorni, una notazione di tutto 5 della radiazione di bilancio, che è iniziata per loro rispetto al conoscimento, perché ovviamente il Presidente di questo Consesso ha indicato che il cuore di tutti i consiglieri evidenti nell'effettiva pubblicità e arricchimento da parte della città della comunità. Poiché, come sapete, il Segretario Generale è tenuto un'attività circolare a disposizione dell'interazione nazionale di conti, ha tenuto la trasmetterà a conti, ogni volta che il territorio viene fuori di bilancio viene riconosciuto, ha, come dire, più teca dei consiglieri che votano questo atto, e già nella corte dei conti, saprà che i consiglieri si sono espressi, come ha avuto avuto, di riconoscere il risultato del bilancio, ma negli benefici che votano comuni in Italia, per la garanzia e per il consenso. Allora, questa sua precisazione, in questo momento, in questo momento, in allarme, no, non mette in allarme, questo è la occida di ogni riconoscimento del politico, i rubini, i ritmi, la vita, tutto. Perché lei ha detto solo di questa fase? E' la probabilità del problema. No, 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 scelta la velocità della letra. Allora, il Segretario faccio un'opzione di integrazione della letra, perché io sono chiamato a votare, la delibera, così come è stata e subita. Se si deve integrare la delibera con una riciclura, integrava la delibera e la libera. Ma se... C'è un esempio, ma anch'io, che mi racconti... Ma se non l'avrò, l'assetto. Ah, l'avrò, l'assetto, l'assetto, l'avrò, l'assetto, l'avrò, l'assetto, l'assetto, l'avrò, 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 c'è la situazione delle risorse, c'è lo stanziamento delle risorse. Quindi, è esattamente collegato al conoscimento del bilancio. Questa è la brava ragione. La propria del Consiglio è la posizione del Consiglio è la posizione del Consiglio che mi riguarda la propria. Ok. Passiamo quindi alla base di operazioni. del Consiglio così come anche il stato, il stato, la sanità del generale, l'avrò, 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 l'associazione, della situazione l'iniminti del desistitivo di darci ai suoi e Gedanken prezidenti. Quindi, basa solamente a tutti, l'avrò l'avrò, l'avrò, poi l'avrò, la propria del Consiglio è il tructo. No. Sì. Sì. in giugno ci proviamo ad applicare il manacuolo di accontenamento, quindi si mettono la sentenza. Però qua, guardate, i consiglieri stanniamo perché si assumono la, diciamo, la, per quella scusate che consiglio di approvare il schiavo. Allora qua c'è un tema, non sono caramente, ma parliamo di un punto di vista, mi colpisce che nella rivoluzione prima di vista, a cui il segretario la vista, la rivista e la strada rivista a portare all'ordine del giorno, mi mette in città la giugno dell'apportazione, di cui noi andiamo a portare e a giugno del rischio. Allora mi domande chi sarà sfuggito a fare segretario, in un momento in cui, perché io sono giugno del rischio e passano al bagno del segretario, per essere portato all'ordine del giorno, quindi bagno del segretario di progetto. Il momento di fare il primo consiglio, insieme con il servizio di sindaco, che è portato in dubbio, che viene specializzato da segretario, ci mette un po' di un'altra preoccupazione, quindi a questo che qui facciamo i sindaci, e cerchiamo di capire quello che dicevano tutte le segretarie, intanto prima, nel viaggio di queste cose, ritengo che in questo momento si è accorto in modo di, dal mio punto di vista, di fare un approcciamento, anche perché, in questo momento, chi ha fatto l'idecazione, chi ha uscito dall'altra, chi dice questo, chi dice grazie. Io sono un po' di disponibile a votare, però, io faccio un po' di una scelta, chi guarda gli atti, e poi vengono tramontati nel consiglio, e voi consigliere, voi si assumono la responsabilità, non servire, chi deve controllare, non servirebbe autetare a rendirsi a tutti questi atti, non sarebbe affatto, per me, è un amato grave, anche perché molti di noi fanno i sindaci e davanti a questo segretario, mi devi dare le spiegazioni perché il caso segretario è di accorre in un grande produzione tutto quello che può essere la donna di cose di fare, di verifica degli atti, oggi è lì il consiglio metropolitano e fa una giunta. Per me, dal mio punto di vista, non posso condividere perché lei è una persona attenta, lavora sulla trasparenza e noi stiamo affidandoci nel lavoro degli uffici, nel lavoro del segretario generale, di cui visiona gli atti e poi viene l'anima a dire queste cose, se te le consigliate. Allora, quali le cose si riguarda prima? che non ci mette in condizioni di consiglio e dici queste cose, se no, non si fa nessuno a parte di caso segretario. Dobbiamo farmi rischi. Io ho un giocatore al segretario, dove è anche la nostra proposta, non a piazza da manco, che lo facciamo noi, da 5 a 7 anni, cosa faccio? un consiglio assuma ogni mia responsabilità, se ne assuma anche le responsabilità, che è il segretario generale di queste, è il momento di comportare gli atti e quando è un negozio dopo fare il gestione di un organo, devono essere perfetti, se ne ci vuoi garantire. Grazie. Grazie a tutti. Grazie per voi. Ma questa è la sentenza di letterato? Ma questa è la sentenza di letterato? Tu sai, tu sai, tu sai? Quando avrai il socio, la sentenza di letterato. Certo, te e te, che hai detto da te. Quindi, diciamo, la tua sentenza di letterato. Sì, c'è la sentenza. In segretario, per essere che io metto la sentenza di letterato. Allora, c'è bisogno di questo primo segretario. C'è la sentenza di letterato. Allora, la tua segretario, non cadete nel presente. Sentenza di letterato. Non c'è i soldi che il segretario specificasse. Dice, per mettere il cappello. Vabbè, da lui, signor Pusegretario, neanche a te. Allora, lo vogliamo. Ok. Allora, ma la vediamo, sì. Sì, mettiamo la classe di protezione. I consiglieri... I consiglieri in aula... ... 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